Pronto? Il che c'è? Eh, pure! Ma, da te pare l'ora? Dopo? Ancora dopo quello che è successo? Ma io stavo pure a fare, io devo stare a perdere il tempo con te, ma che tutto guarda? Quando fanno? A 45 il supermobile. Ma io dico, no? Ma posso stare a perdere? Io non te la faccio più con te, non? Ti ho detto che non ti voglio più rivolgere parola. Niente, zero, di pacca. Eh, che hai fatto? E' un piede, mi la faccio! E' un piede, mi la faccio! E' un piede, mi la faccio!